Eccoci qua, li rivediamo finalmente al gioco, il gioco degli scacchi. Io voglio fare un saluto a Renzetti che è qui nella foto di Paolo Cannone, non è Paolo, ah non la vedete voi scusate. Vabbè Alessia grazie come al solito sarei di dire. Allora vediamo un po' siciliana giocata dal Paolone. Siamo nella siciliana Taimanov, si chiama così e praticamente adesso la regina, vabbè abbiamo già spiegato nei giorni precedenti l'idea della siciliana in generale, scambiare il pedone C per un pedone centrale. Adesso il bianco, il nero ha due pedoni al centro e quindi in linea di massima l'idea del nero è di cercare di effettuare la spinta in D5. Quando questo potrà essere fatto? Non adesso perché il pedone sarebbe in presa e il nero deve preparare accuratamente. Cosa dice Tizzo? Scusami Alessia, però sembrava che Tizzo fosse innervosito. Perco di ragionare. Cerca di ragionare, sta solo cercando di ragionare. Potrebbe non essere una cattiva idea. Ok, sta ragionando, ok. Pensavo perché si è, diciamo, ha subito, ha detta sua, la preparazione nello scorso match, no? In apertura, quindi volevo capire se sentisse ancora questa cosa rispetto alla scorsa volta oppure se fosse cambiata. Di solito l'alfiere in C4 non è troppo bello. Comunque, secondo me, la preparazione di Paolo, allacciandosi a quello che diceva Romualdo, non c'è. Eh no, però, cioè, mi chiedevo se Tizzo si fosse preparato. A me sembra che non si sia preparato in apertura, perché ha giocato alfiore C4, appunto, che di solito nella Sicilia non si gioca. Sì. Soprattutto in quella con E6, perché il nero può giocare D5. Sì, diciamo, il pedone, l'alfiere in C4 sta bloccando la mossa D5, però in, come dici tu, alla fine con la Siciliana con E6, non è che sta facendo un granché, sta puntando su... È un dono wall, non conviene. Di solito l'alfiere va in E2 o in D3? Non so comunque se il livello sia già a quello in cui veramente le prime 15 boss sono tutte in preparazione, cioè... Ah no! Sì, hanno un'idea un po' più precisa di come dovrebbe andare l'apertura, cosa ci sta dietro l'apertura che stanno giocando, però secondo me non è che sanno tutte le varianti di tutto, eh. No, questo... Comunque è un po' a c***o di cane, diciamocelo. Ma sì, va tanto. Però ti dico, secondo me Tiziano, soprattutto su alcune linee, è molto forte, cioè conosce bene i piani, infatti Paolo, secondo me, ha fatto molto bene a giocare la Siciliana, perché mi sembra un po' un tallone da kill, diciamo, da killer. Potremmo dire di Tiziano. Guarda, di solito in questa... questa cavallo G4 è interessante, al motore non piace, il motore sta urlando, ma che c***o hai fatto? Che stai facendo? Eh, il punto è che il cavallo vuole scambiare, vuole cambiare se stesso per l'alfiere, che è un alfiere potente. Vuole darsi. Di solito, va bene, sì, vuole cedersi, no? Qua c'è un pedone in presa in G7, prima di tutto. La donna attaccherebbe la torre e il cavallo allo stesso momento, questa mossa mi sembra problematica. Con G8 difendi. Con G8. Torre G8 è in presa. Torre G8 è un regalo... L'ha fatta Tizio? Con i belli. Sì, Tizio, la mette. Va a giocare prima, diceva, ovviamente, adesso. Ah, certo, ovviamente. Beh, diciamo, è già strano comunque muovere un pezzo due volte in apertura, no? Cioè, avrebbe più senso invece completare lo sviluppo, magari capire dove mettere il re inizialmente e poi magari anche l'alfiere campo chiaro. Paolo è stato un po' troppo veloce, insomma, in questa fase d'apertura. Secondo me questa qui è una partita di... di sniffa. Si annusano, riprendono un po' la sfida, adesso Paolo sarà tiltatino, accade questo scambio, ma è sotto di un pedone. Questo attacco cavallico dovrebbe impedire la presa della torre? Secondo me no. Io smuto Paolo alla reazione di aver perso la torre. Può mangiare, mi può tornare indietro, mi mangia per forza. Poi io mangio al fiere. Beh, F3 per forza bisogna farlo, ok, quindi... La posizione è ok, sì, è un pezzo in meno, però... In realtà qualità, no? Cioè, il bianco ha due torri. Il discorso è che i pezzi del nero, a parte la donna che sta da sola, poverina, al centro della scacchiera, sono tutti nel garage. E di solito questo è un brutto segno quando... Se mangia, mamma mia, mamma mia. Se mangia la baulata subito. Ecco, io avevo paura ogni volta adesso, perché magari... Non penso, non penso che... No, non mangio. Che accada una baulata del genere. Torna indietro. Diciamo che, sì, il nero non ha ancora lavorato quasi niente allo sviluppo dei suoi pezzi. Qua potrebbe anche esserci... What about cavallo B5? Così. È una bella mossa. Per dar fastidio alla donna, al massimo costringe una spinta di pedone. Guarda, una cosa che stavo pensando, cosa succede se cavallo B5 la donna cattura quel pedone? Credo che ci sia un problema, un problema di fondo in questa posizione, va bene. La Rocco è solidissimo, fantastico, la torre sta attaccando il pedone in F7, mi piace un casino. Questa mossa di Paolo non mi piace proprio per niente. Il cavallo marcia verso il centro della scacchiera attaccando la donna, minacciando scacchi. E questo è un pertugio di quelli... Di qualità proprio. Uh, che ti fanno sognare. Ma tra l'altro la posizione è così bella che qui il motore ci segnala che funziona anche il sacrificio di torre. Cioè torre per F7 porta a casa la pagnotta, perché? Perché facciamo uscire il re allo scoperto e poi portiamo l'altra torre in gioco e diamo matto coordinando donna e torre. Veramente è una posizione incredibile per Tiziano. Anche il pezzo in C3 che è in presa, però in realtà non è un problema. Cioè possiamo regalarlo perché l'importante è dare matto. Intanto se il cavallo viene catturato, il bianco al massimo mangia qui il pedone e poi si mangia l'alfiere. Quindi non è neanche un sacrificio di cavallo, è al massimo un cambio. In realtà c'è anche di peggio probabilmente. Non vedo il matto, devo dire, perché dopo donna per cavallo, donna cattura, il re un po' se ne sta scappando come un codardo verso la casa bio. Un arrocco manuale. Un arrocco manuale che lascia la torre sepolta. Un arrocco manuale, ma non da manuale, perché non è proprio fatto. Tiz però è sotto di un minuto. Ma sì, ma di sto minuto c'è il sedo e ce l'appendiamo. Vabbè, comunque diciamo che la spinta... Sono rimasto colpito dal vostro commento sulla spinta E5, perché in effetti quel pedone sarebbe stato così bene in E6, supportato da due altri pedoni, ma soprattutto ad impedire proprio la mossa. Wow, e arriva? Eh, matto in 12 ragazzi, matto in 12. La vede? La vede? Lo vede, lo vede, matto in 12. Ha fatto gli esercizi di tattica Tiziano, lo fa, lo fa signori. Lo fa, lo fa. Abbandono di Paolo Cannone sulla morte della donna. Allora qui la linea principale sarebbe non cavallo C3, ma C per D5, quindi lo dico per chi gioca queste cose. Vabbè, però alfiere G5 adesso si rientra in una slava, una normalissima slava diciamo. Sì, adesso è un'apertura molto solida e vediamo. Questo potrebbe diventare un Queen's Gambit Accepted, non so se avete visto la regina degli scacchi, il gambetto di... Vabbè, che non è mai stato giocato in realtà. Tu non l'hai visto, veramente? Ma che cos'è, scusa? Adesso il cavallo va in E4 ed è scambiato. Questo pedone è un po' deboluccio, devo dire, ma non è un gran problema perché al momento i pezzi non possono... E3 è un grande errore in questa posizione. Chissà se Paolo fa E3 perché c'è donna a 5 scacco, un tatticismo tipico. Ah, bella! Invece fa F3. Adesso la differenza è che su donna a scacco l'alfiere ancora fa in tempo ancora a tornare indietro, parare lo scacco e attaccare la donna. Invece col pedonine 3, signori e signore, l'alfiere è bloccato dal suo stesso pedone, per quello si perde un pezzo. Comunque adesso Tiz interroga l'alfiere e dice... Alessia parlerà nel resto del match in barlettano, quindi farà tutte anche le call to action in barlettano. Io inizio a dire che il barlettano non lo so parlare bene, quindi... Secondo me già col tuo italiano vai benissimo, però se vogliamo, no, portare lo next level... Niente, ormai non c'è nulla serio. Allora, questo pedone è morto, cioè, possiamo già fargli il funerale perché... Ah, mettici la tomba, no? C'è il rip? Mamma mia, ma voi proprio mi sfruttate qui! Ma scusate, ma sei tu che hai tirato fuori sta gag? Ma sei tu che fa trocchi simboli per una volta che ce n'è uno sensato. Ma sì, ma lo faccio quando voglio! Va bene, va bene, allora... E metti quello, e metti il coin, e metti la stellina, e trovi una faccia disgustata, e una cattiva non ce l'hai? Allora, questa cattura di pedone è molto importante perché ricordiamo che per Paolo questo è match... Cioè, per Tiz questo è match point, quindi Paolo deve vincere, deve vincere. Penso lo catturi senza troppi problemi, molto bene. Adesso, ecco, questo scambio di alfieri può essere sensato perché cadrebbe B2. Ho ragione? Hai ragione. Hai ragione, ma anche no, ma scusami. No, c'è donna C3, scusami, donna D2, difendi tutto. Allora, ti dico... Ah, certo, puoi catturare di là. Dopo alfieri cattura? O catturi di pedone e il pedone non è più in B2, o catturi di donna e hai difeso il pedone. Quindi quel pedone non cade mai. Però hai ragione che se il bianco, questo, il bianco a scambiare, la donna entra qui, dà uno scacco, mangia il pedone. E quello dicevo io. Ma c'è donna C3 comunque, difende tutto. Comunque il discorso è che alfieri D4 non serviva per mangiare il B2 quanto per sviluppare l'ultimo pezzo a roccare, che è cosa che appunto fa Tizzi in questo momento. Quindi seguo i principi. Però il centro di Paolo devo dire che mi piace molto perché è molto solido e difficile anche fare spinte di rottura che diano fastidio. Però si deve sbrigare a muovere i pezzi perché la donna in C3 non può lavorare da sola. Alfieri D3, Cavalle 2 e Arrocco Corto è un piano molto tranquillo, classico. Sì, sì, non fidatevi di quello che dico io, ma allora sono qua per correggere le mie imprecisioni, eh? No, ma ci sta allora che, no, magari sembri, no, e B2 sia impresa, quindi semplicemente no. Ma no, ma non era niente di, cioè era una, una colezza, non niente di. Sì, 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 no, infatti. Una questione, una questione. Sì. Non c'è bisogno di, non c'è bisogno di sviluppare i pezzi in questa posizione. Cavallo out, Enkin and out, Enkin cavallo out, proteggere il pedone invece viene spinto a... Si spinge. Intanto mancano soltanto cento like sulla live di YouTube. Io ci credo, vi metto il link in chat, Twitchers. Così potete fare un piccolo balzo e mettere un piccolo like. Vi dico, vi do un assaggio. Sono un giorno macino, un giorno ciòmo, sono un giorno macino, un giorno ciòmo. Poca bellezza. Quasi vorrei evitare mille like. Ha immagato un demone. Stai attenta, adesso vediamo che la lavagna si spezza e ne esce un demone. Segnalo un piccolo trucco. Su arrocco corto... Mamma mia, abbiamo mille like. Su arrocco corto c'è cavallo per D3 e su donna per D3 c'è C4 scacco e guadagni la donna. Quindi arrocco corto è proprio sbagliato in questa posizione, c'è cavallo per D3. Eppure sembra il più, sembra il più così. Sembra naturale, no? Perché tu dici, metti, mi sembra, poi non so se tatticamente mi si è perso qualcosa, però. Posso dire anche le cose brutte in dialetto? Vabbè, tanto nessuno capisce. Basta non dici la parola con la M, poi quella con la P, quella con la C non puoi dire. Ok, 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 prova a contenermi. Quella con la F non puoi dire, è chiaro. Quante restrizioni, mamma mia! Quella con la D. Ok, mi sa che non posso parlare, signori. Mezzo alfabeto, bannato. Ecco, arriva, arriva, e lo chiama. Questa è l'occasione di Tiz per colpire. Scusate, non volevo tifare, non volevo tifare, giusto, è giusto veramente per il content, perché mi sembrava una minaccia. E qua potrebbe giocarsi l'intero torneo su questo arrocco, eh. L'intero show match, la resa dei conti si gioca proprio su questo arrocco. Adesso Tiz svolge la mossa corretta con il cavallo. La vede cosa Paolo sta pensando? C'è Fugur da merda. Proprio con quel 100 soprattutto. Eh, qui. La vede? Slimmissime speranze per Paolo Cannone. Ottimo che non ha mangiato il cavallo perché così... Wow, alfiere per H3, fortissimo Tizione, wow. È riuscito Tiz a superare la barriera, il tergicristallo, questo mio po' tergicristallo, di Paolo Cannone. E la fa, attenzione, C4 scacco, C4 scacco prende la donna, la fa? Questo è un classicone, è una baolata finale, li vado a smutare. Finisce qui la nostra avventura, amici. Eh, lo sa. No. Tiziano la vede? Wow, comunque Tiziano, favoloso. E qui finisce l'avventura di Paolo Cannone e Tizio, è il vincitore della resa dei conti tra Paolo Cannone e Tizio. Eccoci qua, abbiamo un vincitore, un Tizio sfavillante all'inizio, un po' imparito, ma alla fine riesce a conquistare il titolo di resa. Esa con Taro.